Bella a tutti ragazzi sono MattBoy120 e bentornati finalmente nella VillageCraft Questi ultimi giorni sono trovato impossibilitato nella produzione e creazione di video Perché sono stato il fine settimana a Firenze e quindi appunto non ero a casa per poter fare video Con questo video posso annunciare finalmente dei nuovi progetti per questa serie Alcuni che saranno semplicemente di estetica e qualcosa di figo E altri che ci serviranno e ci saranno abbastanza utili durante il corso appunto di tutta la serie Detto questo andremo a vedere il primo progetto che però non andremo a sviluppare in questi episodi qui Ma che faremo in futuro? Che adesso farò andare Si trova all'interno del villaggio Visto che non avevo la minima idea di cosa fare in questa serie Sono andato qui nella miniera e mi è venuta una fantastica idea Intanto ho chiuso qui Dicamente io voglio costruire una città sotterranea E ho già provato a fare una qualche casettina Se si può dire appartamentino E qui ho fatto una specie di negozio Barra Si Negozio Barra un bel niente E questo sarà più o meno come sarà fatta Io No era giusto Si Era giusto così Come sarà la casettina Ci sarà un letto Che adesso non ho messo la capa Dovrò fare Una fornace Un tavolo E poi Una crafting table ovviamente Che sarà la casa di dei minatori E quindi Il minimo indispensabile è questo Se qui poi avevo finito la legna Non ho fatto la crafting table E vabbè pazienza Qui invece per Il negozio Ho messo Qui praticamente ci metterò Ci porterò il villager un giorno Ho messo slab E slab sia sopra che sotto Per creare una Una facciata Si Un'apertura di Un cubetto e mezzo Dove nessuno può passare Eccetto i ragni ovviamente I cuccioli di mob Mezzo Intendo come villager E si può accedere Tramite una botola Che i villager Non possono aprire Poi qui ho messo Una cesta Che non si può aprire Per bellezza Tanto non c'è niente dentro Ehm Mentre scavavo Ovviamente ho trovato pietra Ho trovato Un po' di carbone Non mi pare Di aver trovato Ferro Se non sbaglio Ho messo qui Cioè Se no L'avrei messo qui A cuocere No infatti Qui roba che ho trovato Durante la notte Ah e tra l'altro Ho fatto un piccolo controllo E durante la notte I mob Non riescono Non spawnano Nel villaggio Quindi possiamo stare tranquilli Con Uh sono già quattro Con le difese Che abbiamo adesso Con tutte le torce Quindi non entrano Nel villaggio Dopo aver annunciato Questa cosa Direi che possiamo Passare Al progetto Più interessante Che ci coinvolgerà In questi episodi Praticamente Ehm A noi serve Una fonte Di legno Abbiamo E' vero che abbiamo Già la foresta Che quando voglio Posso andare A buttar giù Deforestare Peggiore In Amazonia Però Mi secca Sempre Allontanarmi Da casa Venire qui Questi alberi Sono Piantati Alla cavolo Di cane Quindi E' sempre un casino Poi ripiantarli Poi le foglie Si attaccano E Insomma Ehm Trovo Più utile E più Confortevole Si può così dire Costruire una farm Di alberi Ossia un terreno Libero Dove io Possa piantare Appunto Degli alberi Di qualsiasi tipo Quindi In questo caso Io ho Arboscelli Di betulla E di quercia Veneti da questa foresta E andrò a piantarli Il terreno Verrà fatto qui Eh In questo grande spazio Che ho ricavato E Sarà Il primo Pezzo Di un progetto Più grande Che Convolgerà La creazione Di varie Zone Di coltivazione E allevamento Soprattutto coltivazione Per appunto Tutto il cibo Ad esempio Un grosso campo di grano Perché quello lì Non ci basta Un grosso campo di carote Un recinto migliore Per i maiali Pecore E robe del genere Che sarà Fatto tutto Qui intorno Nelle vicinanze Della casa E del portale Per il nether A cui ho ancora Dimenticato di mettere I quadri E basterà Modificare il terreno Togliere quei due laghetti Ricoprire un po' di terra E robe del genere Come sapete Terraformazione Bla 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 Adesso Mettiamo via Il piccone di diamante Per sicurezza Metto via anche Il carbone No Carbone Metto via la metà Ok 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 Molto Bene Allora Per il design Della Del coso Qua Della Mio dio Non mi ricordo Come si chiama Della farm Di alberi Avevo pensato Un attimo Dimenticato La benedettissima Crafting table Su A costruire I contorni Con dell'arenaria Perché Abbiamo il deserto Vicino Abbiamo tanta Tanta sabbia Ovviamente L'arenaria Cioè Quattro cubetti Di sabbia E Uno di Arenaria Quindi ci servirà Da prendere Tanta 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 Sabbia Ma questo Ma questo Non è un grande Dilemma Ma questo Non ci servirà Adesso Pensavo di fare Allora Metteremo Faremo Un grosso campo Che intanto Andrò a delimitare Con Con cosa Con della terra Dai Un campo Un campo Un campo Togliamo Anche qui Del genere Di Allora Faremo Una lunghezza Non ci sono Regole precise Di minecraft Per piantare Gli alberi In un certo Terreno Roba del genere Quindi in questo caso Non dobbiamo preoccuparci Anche più l'arco Di due Fare così E poi Andremo a prendere La sabbia Dai due deserti Che abbiamo qui vicino Così è quello E quello Dall'altra parte E E poi Andremo a cominciare A pensare A come fare Are 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 Questo Benedettissimo Contorno Di Are In aria Direi che è Abbastanza grande Visto che Considero Di piantarci Massimo Una decina Di alberi Alla volta Non so Quanti Ho finito La terra Vabbè Si capisce Si unisce qua Ok Allora Adesso ho Solo una Pala di pietra E Quindi Non Ciao ragno Molto simpatico Non avevo mai notato Questo buco enorme Qui in mezzo alla strada Dove passo con i cavalli Di solito Credo che dovrò rimuoverlo Uno di questi giorni Vabbè È un Sono dettagli di seconda Importanza Probabilmente si collega No Non si collega un bel niente Ecco Ok Allora Giacche 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 di pelle Ok Questa era bruttissima Andiamo a vedere Vi faccio vedere un po' Com'è la savana C'è Da lontano Non voglio ancora Addentrarmi troppo Nei territori Perché Quando uscirà La 1.8 Voglio che questo mondo Resista anche a quell'update Quindi Non voglio esplorare Troppo Adesso L'unica direzione In cui mi sono allontanato Di più È stata quella Ma È Bella miseria Vabbè Chi se ne frega Della notte Prendiamo Un bel po' Di sabbia Adesso Io Non mi ricordo Assolutamente Come si fanno I diversi tipi di arenaria Allora L'arenaria L'arenaria normale L'arenaria levigata Me lo ricordo Però Non mi ricordo Come si fa L'arenaria Quella Con la testa di creeper Lo posso intuire Però Non me lo ricordo Allora 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 Siamo già A 9 minuti Di registrazione Abbiamo ancora Tempo Per cominciare Il progetto E io direi Che adesso Possiamo Quando finisce La palla Possiamo anche Tornare a casa Ecco qua Avevo preso Solo 34 pezzi Ma io Non voglio Stare fuori Di notte Troppo a lungo Se no Spawnano I peggio Mostri Che entrano Nel mio villaggio E questa cosa E questa cosa Non mi piace Che i miei villager Devono stare al sicuro Anche se Visto che ne ho due In una casa Volendo potrei Lasciar perdere E fregarmene altamente Perché Con due villager Possiamo sempre Ricreare Tutta la popolazione Ok Ok Adesso Ho preso 64 Più 34 Di sabbia E' poco Qui non ho Altra sabbia Però un casino Di lano Con cui poi Farò dei letti Per Ah si Crafty table Qui Giusto Ok Ok Allora Allora L'arenaria Si fa In questo modo Come potete vedere 4 cubetti di sabbia Fanno 1 di arenaria Quindi Viene Già Decimato Quasi Ok Poi Se non sbaglio L'arenaria Così Fanno 4 cubetti Di arenaria Levigata Però Non possiamo Ritrasformarli Con l'arenaria Levigata Possiamo fare L'arenaria Levigata Wow Molto Molto Utile Veramente Arenaria Intagliata Allora Può darsi Che sia Così No Andrò Sulla Wiki In futuro Se non Sbaglio Beh Si possono Fare Gli scalini Sì Gli scalini D'arenaria Ok Le slab Ovviamente Quindi Possiamo già Fare qualcosa Di più Articolato Però Non si possono Fare I muretti E questo Ci dispiace Vabbè Che non è che Ce ne frega Più di tanto Perché Allora Ok Cominciamo Tanto Tanto Trasformiamo Tutto In Un attimo Perché Non Mi è venuta in mente Adesso Quest'idea Della Della farm C'è Qualche minuto Prima di registrare E Allora Sopra È uguale Ehm Non lo so Vabbè Tanto Lo posso Ritrasformare Quindi Tanto Facciamo Ah no Troppo alto Ecco Un Due Tre Quattro Voglio fare Delle specie Di archi Che si Congiungono Quattro Sì Intanto Lavoriamo Sulla facciata Ehm Sì Dovrei Risalire Però Adesso Ok Allora Io direi Di fare Qualcosa Così Metterò In cobblestone Tutto Quello Che Ci sarà Inutile Allora Qualcosa Di altezza Così Dovrebbe Andare Ehm Poi farò Un grosso Parco Ok 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 Questa cosa Non so se farla offline Probabilmente Lo farò offline Che io mi diverto A costruire in minecraft Visto che Ovviamente Tutti si divertono A costruire in minecraft Quello che voglio dire Adesso io potrei Tranquillamente Mettere delle slab Per fare più bello Perché Cosa si possono fare Le slab Ah Arenaria Normale Ah quindi Non Non esistono Le slab Di arenaria Levigata Questo potrebbe Influire Sul Design Ma anche No Andiamo A vedere Ci sta Abbastanza Bene Sì Dai Posso dire Che ci sta Abbastanza Bene Sì No Brutto Maledetto Sappiamo tutti Chi sei Ok forse qui ci metterò Ok Ok È abbastanza Uno schifo Lo devo Ammettere Beh È abbastanza Come dire Compatto Non No Non lo saprei Non saprei come Definirlo Ma Ragazzi Questo episodio Termina qui Io Questo qui Già che lo Finisco online Farò Le Le arcate Sui Sui Tui lati Probabilmente Tutte uguali Così facciamo Più bella Figura Farò Qui Al posto Della terra Metterò Dell'area In aria Sopra Probabilmente Metterò Delle fence Farò Farò La porta O il portone Devo ancora Vedere E poi farò Gli spazi Di terra Per gli alberi Così sapremo Dove piantarli Ogni volta Che così Sarà più bello Da vedere E quindi Vi ricordo Ragazzi Di iscrivervi Al canale Se non siete Ancora Iscritti Fatelo Perché Se no Non avete Senso Di guardare Questo video Maledetti Commentate Condividete Mettete In piace Sia a questo video Che alla pagina Di facebook Che si chiama Sempre Matboy120 Se avete Dei consigli Su Dei nuovi Progetti Su come Modificare Alcune Costruzioni Già esistenti Su questo Progetto O qualsiasi Altra cosa Sentitevi Liberi Di commentare Tranquillamente Accetto Ovviamente Le critiche Costitutive Perché so Che le mie Costruzioni Fanno Abbastanza Schifo Ciao A tutti E al prossimo Video